ciao fragoline e ciao fragolini allora seconda parte dei prodotti finiti come avete visto nell'anteprima altro sacchetto enorme di prodotti finiti spero che sono ultimi perché questo poi dovrebbe essere l'ultimo video perché poi vi farò vedere appunto nella nuova casa i prodotti che poi finirò vi faccio vedere i prodotti che ho finito faccio un po più veloce perché sono tantissimi perché sennò non finiamo più e video dura come l'altro allora prima di tutto iscrivetevi al canale lasciatemi un like un commentino qua sotto e anche su instagram seguitemi che io vi aspetto anche lì detto questo e quando avete fatto queste cose iniziamo allora iniziamo da questo questo è cura lavatrice di sole praticamente e per la pulizia dentro alla lavatrice ovviamente io non so se ha pulito bene dentro la lavatrice ma io so che l'odore è buono perché quando l'ho visto sembrava sia la pulizia fuori che ho visto e sia l'odore secondo me è buono non è male come prodotto dato che io li voglio provare quasi tutti li provo tutti e vi farò vedere poi come qual è il migliore è praticamente fatto così in questa bottiglietta qua voi mettete il liquido dentro ha fatto andare la lavatrice credo che come pulizie c'è pulizia dentro proprio dentro secondo me è ottimo per cui buono posso consigliarvelo poi il sapone dell'anidria perché io mi sembra che sono ancora un pochettino comunque questo vabbè ho preso le ricariche e sono ottime questo qua dell'anidria questo la salvia non c'è niente da dire come come sapone per le mani ottimo per cui andrò avanti a prendere questo mi sto trovando bene per cui va bene non c'è niente da dire ve lo consiglio è ottimo questo anche di meno mi sembra e dura di più per cui almeno cinque boccette riuscite a riempire anche di più mi sembra poi questo qui secondo me è bocciato questo bruf blu atti brillantezza perché quando voi tirate lo scarico in poche parole l'acqua del water lascia non solo sporco ma il colore dentro a me non mi piace vedere il colore quando tirate c'è perché qua nell'immagine c'è scritto che è così ma bene non mi piace non lo so preferisco gli altri che tu quando ti rilacqua almeno non lascia io dico lo sporco ma non è sporco è quel colore di questo coso che non mi riviene il nome ovviamente come sempre e non mi piace per cui preferisco uno più leggero più che tu tiri l'acqua però almeno cioè ti lascia l'odore ed è bello da vedere invece questo qua ti lascia solo il colore dentro e non mi piace per cui secondo me è bocciato per cui io non voglio più prenderlo prenderò un altro che mi che con gli altri mi sto trovando bene ma questo qua secondo me non va bene poi questo della fria struccante se avete struccanti non mi sono piaciute sono troppo pesanti per cui lo provate 2 ho provato due confezioni non mi piacciono per cui sono bocciati secondo me poi mi sono dimenticata che c'era la scatola ma nell'altro video vi ho parlato del colluttorio che questo qua io ho la scatola ma non so perché l'ho dimenticato l'ho dimenticato nell'altro video a farvi vedere questo però vabbè comunque già spiegato come mi sono trovata vicinette non è male è buono come vicinette diciamo anche col calcare così secondo me ottimo per cui va bene promosso poi ci sono altri migliori di questo a sinceramente poi questo qui lo shampoo anguria non è male l'odore buonissimo perché sa di un c'è si sente l'anguria ed è ottimo però dopo un po mi viene a furia di provarlo dopo un po non lo so non voglio più diciamo comprarlo infatti questa è l'ultima volta che lo compro l'ho preso solo per provare è buono ma dopo un po stanca secondo me per cui non è così tanto ottimo per i miei capelli però è buono l'odore mi piace poi il mio mitico dentifriccio di colgate questo qua ai cuoricini che ho altre due scatole finirò quelle e poi basta perché dopo un po mi stanco a provare sempre queste cose non è diciamo il migliore dentifriccio però è buono l'avevo già anche detto negli altri video e ho fatto scorta e mi sto trovando bene è buono mi piacciono perché si vedono i cuoricini ed è trasparente per cui io ve lo consiglio poi questo lo trovate di più a san valentino quando c'è san valentino lo trovate in più però io smetto di comprarlo e voglio provare altri dentifrici poi questo qua colgate cristalli bianchi anche questo non è male mi sono trovata bene è ottimo come dentifricio non mi ricordo il prezzo però non è male come dentifricio poi queste sono le altre salviettine struccanti però questi sono blu alla rosa estratto di camomilla sono pesanti per me queste salviettine cioè il senso che quando tiri via il trucco pesano troppo per cui direi che sono bocciati non mi piacciono infatti non li compro più poi altra scatola che vi ho fatto vedere anche nell'altro video questa la seconda è la stessa cosa come l'altra sono sono buone come pastiglie però l'odore inizia già a non farmi cioè non è che si sente così tanto con l'odore per cui inizio già un po stufarmi ma sono sono abbastanza infatti adesso mia amma non li prende più sto prendendo abbiamo un'altra confezione nuova che poi vi dirò se è buona però sta prendendo solo liquido perché dopo un po queste pastiglie stancano quando non so perché forse per l'odore che non si sente tanto poi questo qua della glade tropical ottimo questo qua dura due mesi questo qua quello grande io vi ho fatto vedere anche quello piccolo questo è quello grande lo mettete su ottimo questo qua per la mia casa e poi ho la ricarica c'è questo va ricarica ottimo c'è senza parole è buono profuma la casa che è è ottimo non so quante volte devo ripetere comunque un mino bianco candeggina delicata vabbè candeggina non è male come prodotto per cui inutile che sto a spiegare ma non è male questo qua quello che abbiamo provato anche questo va bene sto andando veloce non voglio che il video dura troppo mi mi sbaglio ogni volta il quasar vetri il quasar secondo me come marca è buona è molto molto buono è ottimo per cui ve lo straconsiglio questo qua è buono non dico altro poi questo qua invece lo sta provando il mio ragazzo io c'ho la scatola ma non lo sto ancora finendo della zeta completa non l'ho provato una volta solo che è troppo forte per me per cui l'ho usato ce lo sta usando lui ma per me troppo forte non non mi piace c'è bocciato poi questo qui lister in questo qua è fortissimo per le gengive troppo forte non non mi piace per cui per me è bocciato preferisco prendere uno più leggero questo qua dice gusto delicato ma a me non sembrava tanto delicato poi queste qua della sephora che è un fondotinto e un campioncino ho provato questi due questo scuro non va bene per la mia pelle per il mio colore ma questo qua chiaro sì questo qua chiaro è ottimo mi sono trovata bene quando l'ho messo su non è male solo che non so se lo prendo perché è da un bel po' che non metto il fondotinta anzi ne ho ancora lì da finire per questo usando di più i correttori invece questo è bocciato ne ho provati due ve l'ho fatto vedere anche nell'altro video questo è uno shampoo secco lo mettete sui capelli senza ovviamente lavarli e vi lascia i capelli puliti ma diciamo che quando l'ho messo su a me mi vengono sempre i nodi con questo shampoo secco per cui è proprio bocciato io preferivo l'altro che però non riesco a trovarlo non so perché della mi sembra della garnier o nell'altra marca non mi ricordo comunque non riesco più a trovare quell'altro e vabbè mi sono arreso invece questo qua della bottega verde della mela e spezie dopo tanti anni l'ho finito come diciamo crema mani è ottimo non è male l'unica cosa che l'odore è troppo pesante perché ci sono le spezie dentro e secondo me è molto pesante poi meno male che sono pochi prodotti per cui vado vado più veloce questo qua ve lo avevo fatto vedere è il fondotinta che cambia colore voi lo mettete nella vostra faccia e in poche parole il da bianco perché il fondotinta è bianco in poche parole vi vi lascio il colore della vostra pelle allora è idratante perché idrata ma non copre io preferisco un fondotinta che copre ogni volta che lo metto dopo un po' mi sono stancata perché ne ho un altro che sarà l'ultimo e non copre come voglio cioè idrata ma non copre per cui all'inizio era ottimo ma poi adesso lo boccio dopo un po' pesa non ce lo faccio più per cui lo devo cambiare ovviamente quello lo prendo su amazon però ve lo consiglio se volete un fondotinta che vi idrata la pelle va bene ma per la coprenza no altro campioncino che questo qua è il secondo che vi avevo fatto vedere nell'altro video questo qua della glade del profumatore questo qua è buono solo che non so perché qua ho diviso i video e poi mi sono ritrovato i prodotti che non ho che dovrebbero stare nell'altro video vabbè poi boccio anche questo questo eyeliner gel allora questo si fa così c'ha il pennellino piccolino qua in poche parole e questo è l'eliner viola però come vedete non l'ho finito uno perché si è seccato e due tutte le volte che lo mettevo su a parte il colore che non va bene per i miei occhi perché il viola sui miei occhi proprio io ho gli occhi verdi ma non mi va bene questo colore e poi anche perché era difficile diciamo metterlo per cui io lo butto mi dispiace che questo mi sembra che poi l'ho anche comprato mi dispiace ma quando una cosa non mi piace non la uso e lo butto subito per cui non l'ho proprio finita l'ho usata pochissime quei due tre giorni e poi basta mi sono diciamo stancata ho deciso di di buttarla poi il sacchetto è finito manuale ultimi prodotti allora questo qua non mi è piaciuto della Rocher questo è quello che metti in faccia che tieni due minuti massaggi e poi lo sciacqui non mi piace è proprio bocciato questo qua anche perché mi sembra che uno aveva anche tipo lo zucchero tipo lo zucchero che tu metti adesso non mi ricordo se era questo o l'altro però è bocciato non mi piace invece questi qua che sono illuminanti ne ho altri due che sto provando uno l'ho quasi finito sono ottimi sono illuminati allora questo si chiama red hair qualcosa del genere queste sono della sephora lì ho trovato la sephora come illuminante ottimo è liquido ed è bellissimo anche quando lo metti su adesso non ce l'ho perché giustamente oggi pomeriggio devo andare a lavorare e mi sono truccata cioè dopo levo via il rossetto ma il trucco lo lascerò così perché ho fatto un trucco leggero veloce ma l'illuminante non l'ho messo perché tanto poi ho la mascherina e non mi va di andare diciamo al lavoro bella perfettina che poi alla fine mi sporco e non va bene per cui non l'ho messo però la prossima volta ve lo faccio vedere in un vlog se mi ricordo invece questo della Maybelline Maybelline rimuove il trucco questo qua è un campioncino che ho preso che mi hanno regalato su Acqua e Sapone così così io ovviamente non lo ricompro però non mi ha convinto tanto invece per finire questo che è l'ultimo infatti anche questo non l'ho finito a parte che non riuscivo a finirlo però questo qua è la matita enorme che ho trovato sempre nel calendario della Sephora non mi ricordo il nome perché ovviamente la scritta è andata via il colore non è male perché adesso ve lo faccio vedere è così il colore mi piace tanto infatti lo mettevo perché mi piaceva e stava bene sui miei occhi però quando lo mettevo su mi bruciavano gli occhi non so il perché però non lo so infatti dopo un po' l'ho finito tutto ma dopo un po' ce n'è ancora sono non sono più riuscita a finirlo perché è un continuo che mi bruciavano gli occhi e all'inizio poi forse non lo so perché almeno che è fatto così bu comunque è bocciato non mi piace il colore ma è proprio bocciato non poi non lo so fatemi sapere se anche voi vi siete trovati bene il nome non lo so perché qua a furia di temperarlo è andato via il nome però non posso dirvelo non so ma è una matita della Sephora questo qua me lo ricordo che ho trovato nel calendario oh finalmente finito almeno spero non ci sono altri prodotti che mi sparano così li posso buttare allora solo per questi prodotti e gli altri prodotti che vi ho fatto vedere saranno un sacchetto pieno di spazzatura solo per quelli poi vabbè ce ne sono altri che poi vi farò vedere piano piano comunque detto questo meno male che il video è finito se no durava l'eternità fatemi sapere se voi avete provato questi prodotti quale avete provato e se vi siete trovati bene e niente detto questo noi ci vediamo al prossimo video scusate per il casino ma c'è il mio cane che fa avanti e indietro fa casino e ovviamente deve passare comunque è meglio che chiudo qua noi ci vediamo al prossimo video ciao